Un nuovo pulmino nella flotta del comune di Chieti, abilitato al trasporto dei diversamente abili. Il mezzo infatti può caricare tre carrozzine. Al comune praticamente non costa nulla, poiché lo riceverà incomodato d'uso gratuito per due anni. Grazie agli sponsor ne sono circa 25, i quali pagheranno anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. Dalle casse pubbliche solo il compenso per l'autista e le spese del carburante. E il mezzo non servirà esclusivamente le scuole, come spiega l'assessore Teresa Giammarino. Assolutamente sì, è un progetto che è iniziato nel 2008 ed è sempre andato in onda. È un servizio prezioso appunto per le categorie svantaggiate, quindi per i diversamente abili e per le figure che hanno handicap di vario genere. Diciamo che soprattutto è utilissimo per la scuola dove i bambini la mattina vengono presi, portati nelle varie strutture, riprese, portate nuovamente nelle varie attività che loro vanno a svolgere, quindi nelle palestre, nelle case apposite per loro, per intrattenimento e altro. E quindi è qualcosa che ci dà luce e quindi il Comune di Chieti ha voluto fortemente di nuovo chiedere la collaborazione alla PMG SPA di Milano proprio perché per l'alto grado di tutto quello che esprime per quanto riguarda le categorie disagiate e diversamente abili. E da lunedì lo vedremo già per le strade? Sì, infatti noi adesso perché stiamo qui? Perché abbiamo avuto l'occasione di inaugurarne uno nuovissimo che è loro, grazie agli sponsor.